A questa terza relazione d'opera, affinché tutta l'intelligenza mia si scopra, e questa relazione che ho iniziato, spero non spiacerà all'uom trombato. Essere il culmetro, uno scatolone, con due quadranti ed un manopolone, che se per caso ti cade su un piede, all'ospedale rimani per un mese. Dopo che sabbia ha inserita la spina, nel commetro si ficca la bobina, e tanto più il fattor demerto è grande, tanto più muove, tanto più muove, tanto più muove, tanto più muove l'indice inquadrante. Orché la relazione ho terminato, son certo piacerà all'uom trombato, e sperando che questo chiaro sia, vita lunga auguriamo alla democrazia. Essere il culmetro, uno scatolone, con due quadranti ed un manopolone, che se per caso ti cade su un piede, all'ospedale rimani per un mese. Dopo che sabbia ha inserita la spina, nel commetro si ficca la bobina, e tanto più il fattor demerto è grande, tanto più muove, tanto più muove, tanto più muove, tanto più muove l'indice inquadrante. Grazie a tutti!